Ultimi ritocchi a Campo Imperatore, dove da lunedì saranno operative le strisce blu per il parcheggio del piazzale, ma nel weekend dovrebbe essere operativo anche il secondo parcheggio alla base della seggiovia delle Fontari, quello autorizzato dal Parco Nazionale del Gran Sasso e 200 posti per evitare quanto più la sosta selvaggia. Con l'arrivo dell'autorizzazione dell'amministrazione provinciale, il Comune prende in gestione, sino al 30 settembre, l'ultimo tratto di strada dal bivio delle Fontari fino a Campo Imperatore. Questo permette intanto di far partire gli stalli di parcheggio a pagamento su a Monte e quindi poi organizzarsi anche per i parcheggi a valle dove c'è la partenza della seggiovia delle Fontari. Con questo sistema si cerca di dare più ordine al traffico e rispondiamo anche alle esigenze ambientali e di ordine pubblico. Certo è che il tutto, l'intero sistema già collaudato in passato dal presidente Dino Pignatelli che con successo aveva iniziato questo esperimento, tutto entrerà a regime quando partirà la funivia. Stiamo aspettando in nulla osta, tutto è a posto, i turisti sono tanti, e speriamo che questo arrivi presto e così si potrà dare una giusta accoglienza all'enorme flusso turistico che sta arrivando a Campo Imperatore. A pieno regime però si tornerà quando tornerà in funzione la funivia dove sono stati effettuati tutti i controlli, non sarebbero emerse criticità. Di certo la proroga dovrà essere rinnovata ogni mese. Una sinergia, quella dei parcheggi, che ha visto collaborare assieme il presidente della commissione Bilancio Livio Vittorini, il consigliere con delega alla montagna Luigi Faccia, con l'amministratore del centro turistico Dino Pignatelli. L'appalto per la sostituzione delle funi portanti da 4 milioni di euro intanto è andato avanti e ora la commissione giudicatrice dovrà esaminare prima dell'affidamento le quattro offerte pervenute.